Ecco, il Soviero non lo controlla, l'arbitro guarda i guardalini che ha ragione, da calcio l'angolo e lui... E qui non si capirà mai che cosa ha detto, perché è una cosa terribile, questa la censuriamo... E non ho capito più. E vabbè, va avanti così. Ma guardate la faccia del povero guardalini che aveva ragione, aveva ragione il povero guardalini, è stato insultato per 30 secondi di seguito, sono esattamente 30 secondi, ma lui aveva ragione.